Nei giorni scorsi minacciavano ferro e fuoco in previsione dello sfratto coattivo da parte delle forze dell'ordine. Per questa mattina avevano programmato anche in assenza di azioni esecutive di recarsi in massa presso il municipio e chiedere al sindaco cosa sarebbe accaduto. Poi le 21 famiglie di sfrattati della città vecchia ci hanno ripensato. Nessuno ha bussato alle loro porte per sfrattarli e loro hanno rinunciato all'azione di protesta in attesa degli eventi. Il sindaco a questo punto lo abbiamo contattato noi. La parte amministrativa è fatta ci ha detto l'ordinanza è pronta ed esecutiva. Ora tocca alle forze dell'ordine fare il resto. So che il comandante dei vigili urbani organismo delegato ha contattato il questore nei giorni scorsi per avere supporto nella fase operativa. Insomma ci stiamo organizzando. E se nel frattempo dovesse accadere qualcosa? Un crollo? Un cedimento? Le perizie parlano chiaro in proposito. Tutto può accadere, incalza il sindaco, anche un terremoto ma speriamo di no. Non è successo finora, speriamo bene, siamo fiduciosi. La differenza però è che il terremoto è imprevedibile, il crollo invece sì e la possibilità ed il rischio sono nero su bianco anche nell'ordinanza. Ovviamente tutti speriamo bene insieme con il sindaco ma questo stato di attesa senza data non è proprio normale. Forse bisognerà attendere il rientro dalle ferie del comandante dei vigili urbani.